Daniel, una! Nella vita che volevo io, tu eri dietro le sbarre. E nella vita che volevo io, tu eri ancora un uomo. Voglio che siate una famiglia. Adesso lei vuole che Alex e io condividiamo la carica di redattore capo. Tra i due litiganti, il terzo gode. Quando Daniel la vedrà come una minaccia reale, si scanneranno. Non hai detto a tua madre che sei gay? E il quarto intriga. Devi aiutarmi. Se fai questo per me, ti dirò come poter salvare il lavoro del tuo capo. Agli Betti, martedì alle 21 in Prima Visione Italia 1.